Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo dell'esercizio 2023 dell'ente Porto che si chiude con un risultato positivo di 25.884 euro con un totale del valore della produzione che supera la soglia degli 807.000 euro rispetto ai 690.000 dell'anno precedente. Tanti sono stati gli investimenti realizzati nel corso dell'ultimo anno quali le nuove infrastrutture per la piccola pesca e la sicurezza del porto con fondi destinati ai luoghi di sbarco per un importo complessivo di 192.000 euro, il nuovo pontile per persone diversamente abili e il relativo nuovo scivolo di alaggio basculante finanziato dalla regione con 65.000 euro, la linea elettrica del Molo Sud con l'intento di sviluppare le attività turistico-ricreative. Molta attenzione è stata poi riservata al miglioramento dell'accoglienza sui moli galleggianti, alla sicurezza delle imbarcazioni con la sostituzione delle catenarie e alle questioni ambientali con l'avvio della raccolta differenziata dei rifiuti. Il 2023 è stato l'anno in cui si è sviluppato il progetto di promozione turistica nell'area portuale con la realizzazione di importanti eventi. Il Consiglio di amministrazione dell'ente porto nel corso dell'ultimo anno ha perseguito l'obiettivo di incrementare l'azione di sviluppo e miglioramento della struttura e dei servizi portuali sia nell'ambito della pesca sia delle attività di porto e turismo. Rinviato invece il punto all'ordine del giorno che riguardava il presidente dimissionario Valentino Ferrante dimissioni legate ad alcune vicende giudiziarie in attesa di avere pareri sull'eventuale incompatibilità. I pareri che sono stati espressi recentemente, compreso anche quello dell'ANAC, l'autorità anticorruzione, non ravvisano alcuna incompatibilità. L'Assemblea dell'ente porto ha però deciso di rinviare il punto e di esaminare ora tutta la documentazione.